Parliamo del progetto che è stato presentato oggi qui all'Unione dei Comuni di Pian del Bruscoli, in che cosa consiste quindi il progetto di videosorveglianza? Allora, il progetto consiste in un importante ampliamento della rete di videosorveglianza già esistente, ampliamento sia a livello di appunto telecamere, ma anche consiste in un ammodernamento e adeguamento strutturale, quindi dei software, ma anche delle strutture di ripetizione, per esempio dei segnali, necessario perché se si amplia la rete, poi la centrale di Pesaro che raccoglierà i segnali di tutte le telecamere deve essere adeguata ovviamente. Sul territorio dell'Unione, nei comuni di Vallefoglia e Tavuglia e anche Pesaro, perché siamo in località Monteciccardo, verranno in totale installate 48 nuove telecamere, di queste 16 sono le cosiddette targa system, cioè telecamere con la lettura delle targhe e identificazione dei veicoli per vari motivi, sia per motivi di sicurezza pubblica ma anche per motivi di codice della strada, perché sono telecamere che automaticamente rilevano i veicoli senza assicurazione e mancanti della revisione periodica. Altre 32 invece saranno telecamere di contesto e quindi collocate in vari ambienti, nei centri abitati, per avere un monitoraggio, diciamo, delle situazioni più frequentate, dei luoghi più frequentati dai cittadini. Sapete già quali sono le tempistiche per la realizzazione di questo progetto? Abbiamo fatto un lavoro di sintesi e adesso stiamo predisponendo il bando. Io mi auguro che fra gara, affidamento e inizio dei lavori, entro la metà dell'anno prossimo, speriamo di essere a buon punto. L'obiettivo è quello di aver messo a disposizione oltre 300 mila euro per un potenziamento del sistema delle telecamere è un buon funzionamento, perché avere 150 telecamere in un'unione dei comuni di circa 150 mila abitanti e averle nei punti strategici importanti e poter avere un unico sistema che collega anche Prefettura e Questura, gli altri organi di Polizia dello Stato, significa investire sulla sicurezza per i cittadini, per i territori. C'è monitoraggio anche dell'inquinamento atmosferico in questo sistema nuovo di telecamere, c'è anche un aggiornamento, insomma, perché molte telecamere risalgono diversi anni fa. Quindi è un fatto importante, abbiamo dovuto scegliere, perché insomma non è che in un periodo come questo si fa fatica a far quadrare i conti nei bilanci, invece noi abbiamo avuto un avanzo di circa 600 mila euro, 300 dei quali li utilizziamo per dare più sicurezza ai cittadini.